Uso semplicemente una manciata di secondi per dire di questa decima edizione di questo ciclo di conferenze che si intitola Come leggere un'opera d'arte e che nasce da un'idea elementare, e cioè offrire a un pubblico non necessariamente specializzato, però attento, interessato e anche attrezzato qualche criterio di lettura appunto del nostro immenso patrimonio artistico e quindi di opere d'arte, alcune assai note come quella di cui parliamo questa sera, altre meno però sempre di grande rilievo per la storia della nostra cultura. E cerchiamo di farlo invitando sempre, per ciascun tema, i massimi esperti e i massimi specialisti per il tema specifico di cui si tratta. Vedete che dal programma che chi non ha può trovare poi all'uscita abbiamo fatto preparare altre copie del programma di questo ciclo. Oltre all'ospite illustre di questa sera seguiranno altri interlocutori, Chiara Frugoni, Francesco Frangi, Simone Facchinetti, Marco Tanzi e Anna Bernardini. A questo proposito, prima di presentare il relatore di questa sera, do semplicemente un avviso di servizio che c'è la terza conferenza, quella del professor Frangi, per delle ragioni di forza maggiore, invece che il 9 maggio sarà anticipata il giorno prima, quindi l'8 maggio, che è mercoledì. Quindi apre questo decimo ciclo di conferenze, come leggere un'opera d'arte, Antonio Paolucci, che a fianco a me, che ringrazio di essersi preso del tempo per venire fino a Bergamo a tenere questa conferenza, che sarà appunto sulla Cappella Sistina. Lascio a lui poi di, diciamo così, precisare il taglio che vorrà tenere in questo tema che, come comprenderete, è assai vasto e complesso. Antonio Paolucci, non ci sarebbe neanche bisogno di presentarlo, laureato con Roberto Longhi nel 1964, è stato soprintendente a Firenze, è stato ministro per i beni culturali nel governo Dini e da qualche anno è direttore dei musei vaticani, uno dei più grandi musei del mondo. Non voglio togliere tempo a questa conferenza, ringrazio ancora il professor Paolucci di essere qui, vi auguro un buon ascolto e gli lascio immediatamente la parola. Ed ora la Cappella Sistina. Quante volte ne avete sentito parlare? Quante volte l'avete vista riprodotta in televisione o sulla prima pagina dei giornali nei giorni e nelle settimane scorse, quando c'era il conclave, quando è stato eletto il nuovo Papa? Perché lo sanno tutti, la Cappella Sistina è il luogo nel quale i cardinali riuniti a conclave eleggono il Papa di Roma. Ma la Cappella Sistina è anche una straordinaria concentrazione di capolavori assoluti della storia dell'arte italiana, 2.500 metri quadrati di affreschi che vedono presenti tutti i grandi artisti del Cinquecento. Non soltanto Michelangelo, nella Cappella Sistina non c'è soltanto Michelangelo, ma Sandro Botticelli, per esempio, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, Pietro Perugino. Li vedremo nello svolgersi del mio percorso attraverso la Cappella Sistina. Ma perché la Cappella Sistina si chiama così? Perché non si chiama la Cappella di Michelangelo, per esempio, essendo Michelangelo il massimo protagonista degli affreschi presenti in questo luogo. Il nome Cappella Sistina viene dal personaggio, dal Papa, che vedete rappresentato in questo famoso affresco. Un affresco che si è staccato, che si conserva nella Pinacoteca Vaticana, l'autore Melozzo da Forlì, grande pittore del pieno Quattrocento, campione della pittura prospettica, quella alla Piero della Francesca, per intendersi, negli anni 1476, circa, 1777, Melozzo da Forlì raffigura in questo affresco un Papa, il Papa che ha voluto la Cappella Sistina, lo vedete seduto in trono, e rappresenta di fronte a lui un giovane cardinale di 35 anni, era suo nipote, il cardinale Giuliano, Giuliano della Rovere. Papa Sisto IV della Rovere ha di fronte il suo erede designato, in un certo senso, il nipote Giuliano della Rovere, quello che sarà Papa poi col nome di Giulio II e che avrà un ruolo importantissimo nella fase michelangiolesca della Cappella Sistina. E cosa sta facendo questo Papa? Sisto IV. Sta facendo qualcosa di molto importante, una cosa che ci fa capire in modo assolutamente plastico, direi, con un effetto didattico assoluto, ci fa capire una cosa molto importante, cioè l'alleanza della Chiesa di Rova con la cultura. Perché questo Papa, che era Sisto IV della Rovere, alla presenza di vari dignitari della Curia e alla presenza del suo nipote, il cardinale Giuliano, sta consegnando la direzione della Biblioteca Apostolica Vaticana all'uomo che gli sta inginocchiato davanti. ripeto, è un gesto politico molto importante, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la prima biblioteca del mondo, l'archetipo, il modello di tutte le biblioteche che poi ci sono state nelle capitali d'Europa e d'America. Ma il modello e il primo esempio di biblioteca è la Biblioteca Apostolica Vaticana. E il Papa, quel Papa lì, consegna la direzione della Biblioteca Apostolica, non a uno qualsiasi, non a un suo amico politico, non a un cardinale della sua corrente, non a un parente, ma la consegna a un tecnico, e al tecnico più bravo che c'era in quel momento a Roma e in Italia. La consegna cioè a Bartolomeo Platine, l'uomo che gli sta davanti in robone blu, su veste rossa, è Bartolomeo Platine, il filologo, il latinista, il bibliofilo più famoso di quegli anni. Pensate l'importanza politica anche di questo gesto. Un Papa che dovendo nominare a un alto incarico Vaticano una persona, sceglie non un suo supporter politico, non qualcuno del suo cerchio, non un parente, ma sceglie un tecnico, e fra i tecnici il più bravo di tutti. Quindi non c'è di meravigliarsi se quel Papa lì che vedete seduto si sto quarto della Rovere e ha di fronte, ripeto, il suo nipote, il cardinale Giuliano che un giorno diventerà Papa con il nome di Giulio II, non c'è di meravigliarsi se la Cappella Sistina così come la vediamo oggi la dobbiamo a lui. È stato lui a chiedere al suo architetto di fiducia, era un toscano, Fancelli si chiamava, Francesco Fancelli, di costruire attaccata al Palazzo Apostolico di costruire una cappella, la Cappella Magna, cioè la Cappella Grande del Papa di Roma. Una cappella che avesse le stesse misure del perduto Tempio di Gerusalemme. Se voi aprite la Bibbia nel Libro dei Re, capitolo 6 del Libro dei Re, trovate che il testo biblico parla del Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone, quello che i Romani distrussero, come sapete bene, e dice che era lungo tanti cubiti, alto tanti cubiti, largo tanto, eccetera, eccetera. E il Papa, quel Papa, ha voluto che il suo architetto, il Fancelli, costruisse una cappella che avesse le stesse misure del perduto Tempio di Gerusalemme. Come per costruire in Roma, attaccata ai palazzi apostolici, l'arca della Nuova Alleanza. Ecco perché è così importante la Cappella Sistina. Non è soltanto una delle tante centinaia di cappelle che ci sono all'interno del circuito vaticano. Ha un significato speciale, ha un ruolo speciale, in un certo senso il luogo identitario della Chiesa Romano-Cattolica. Non a caso i papi vengono eletti qui dentro. E lo capirete anche, come già lo sapete naturalmente, dal tipo di messaggio teologico che gli affreschi della Sistina ci consegnano. Quindi ricordate l'uomo che è seduto davanti, Sisto Quarto della Roma. È stato lui a volere che il suo architetto costruisse quell'edificio che poi Michelangelo e gli altri hanno ricoperto di affreschi. Questo papa, Sisto Quarto della Rovere, è quello che non solo ordinò all'architetto Fancelli di costruire la Cappella Sistina dandogli le dimensioni che ha e che sono mutuate, ripeto, dal perduto Tempio di Gerusalemme. 56 metri di lunghezza, 14 di larghezza, 21 di altezza al culmine della volta, ma volle anche che i migliori pittori dell'Italia di allora la decorassero con affreschi, affreschi che dopo vedremo. Finché Sisto Quarto della Rovere fu vivo, i migliori artisti fiorentini e umbri di quegli anni, e ciò a dire Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, e poi Pietro Perugino, e poi Biagio D'Antonio, e poi Cosimo Rosselli, vennero incaricati di dipingere sulla parete destra e su quella di sinistra due strisce di affreschi, l'una di fronte all'altra. Su una parte, sulla destra, entrando, ci sono le storie di Cristo, sulla sinistra ci sono le storie di Mosè. I due legislatori, no? Come sapete dal catechismo, Mosè è quello che porta al popolo dei giudei, al popolo eletto le leggi, porta le tavole del Sinai avute direttamente da Dio. Quindi la prima legge, la legge fondamentale, la legge dell'Antico Testamento è rappresentata da Mosè, il primo legislatore. Di fronte, sulla destra per chi entra, c'è la storia di Cristo, il secondo e definitivo legislatore, quello che porta fra gli uomini la legge dell'amore, il discorso della montagna, eccetera. Le vedremo queste immagini in seguito. Ma per farvi capire qual è il concetto catechetico e pastorale, oltre che teologico, che governa gli affreschi presenti nella Cappella Sistina. Il primo a dare avvio alla decorazione interna per affresco della Cappella Sistina è il Sisto IV. Siamo nel 1481-1483. Questi pittori con una performance straordinaria in appena due anni riescono a realizzare i due cicli di affreschi fronteggiati, quelli con le storie di Mosè, quelli con le storie di Cristo. E i pittori, ve l'ho detto, ma non sarà inutile ripeterlo perché vi fa capire l'importanza. Sono Botticelli, sono Perugino, sono Domenico Ghirlandaio, sono Luca Signorelli, Bartolomeo della Gatta, eccetera, eccetera. Di solito quando uno entra dentro la Cappella Sistina ha occhi soltanto per Michelangelo, vede solo lui praticamente. Michelangelo fa l'effetto di una luce troppo forte che di notte acceca tutto il resto, no? Chi entra non si rende conto che accanto alla grandezza di Michelangelo ci sono anche artisti di straordinaria importanza qui rappresentanti a un livello qualitattivo eccelsio, artisti appunto come Botticelli, come Perugino. Tanto tale è l'effetto magnetico e accecante in qualche misura che produce sul visitatore medio Michelangelo Buonarroti. Ma vedete di fronte al Papa Sisto IV della Rovere quello che ha fatto costruire la Cappella Sistina e ha ordinato al suo architetto il Fancelli di dargli le stesse misure del perduto Tempio di Gerusalemme come a dire che questo era il nuovo e definitivo Tempio dell'alleanza fra Dio e il suo popolo sotto il segno del Papa di Roma di fronte a lui c'è oltre Bartolomeo Platina perché a fresco racconta questo l'istituzione della Biblioteca Apostolica Vaticana ma di fronte a lui ve l'ho detto c'è il nipote questo giovane cardinale che avrà 35 anni qui un bell'uomo Giuliano della Rovere quello che sarà Papa Giulio II e che ecco qui lo vedete a 35 anni d'età più o meno di fronte allo zio che era Papa passeranno 30 anni circa e nel 1503 sarà lui Papa di Roma dopo dopo una battaglie politiche scontri terribili con i vari partiti che dividevano la curia romana e la politica italiana ed europea a un certo punto lui diventa Papa e questo è lo zio li dicevo Sisto IV della Rovere quindi c'è una continuità proprio di dilascito fra il Papa Sisto IV è il suo successore quello che sarà poi Giulio II ed ecco Giulio II nella pienezza della sua potestà papale qui è un uomo non più giovane è un uomo ormai alla vigilia dei 70 anni siamo nella 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 stanza di Raffaello che si chiama la stanza della scuola d'Atene la stanza della segnatura e qui è rappresentato il Papa Giulio II della Rovere mentre sta ricevendo l'omaggio delle decretali canoniche e accanto a lui ci sono due cardinali che avranno grande importanza nella storia della Chiesa e delle arti uno quello che vedete a sinistra è niente meno che il cardinale Giovanni dei Medici il figlio di Lorenzo dei Medici di Lorenzo il Magnifico quello che alla morte di Giulio II il Papa che sta in trono sarà Papa col titolo di Leone Decimo Leone Decimo Medici l'altro è il cardinale è il cardinale Farnese quello che sarà Papa col titolo di Paolo III e sarà quello che concluderà in Vaticano la carriera di Michelangelo perché è quello che ordinerà Michelangelo di dipingere il giudizio finale ma a questo arriveremo in seguito vediamolo Giulio II della Rovere quello che avete visto giovane a 35 anni prima nell'affresco di Melozzo di Terlì adesso è settantenne negli affreschi di Raffaello qui siamo nella stanza detta di Eliodoro e vedete questo Papa che aveva una fama di uomo terribile ai suoi giorni dicevano di lui i suoi contemporanei a più dimestichezza con la spada che con l'aspersorio continuamente in guerra contro i principi italiani e contro le potenze europee perseguendo un disegno che era politico ma in qualche modo era anche pastorale lui sosteneva il Papa di Roma non deve essere il cappellano di nessuno non dei veneziani non della corona di Francia non dell'imperatore e perché il Papa possa essere dominus et maestro del mondo così lui diceva bisogna che la Chiesa abbia una forza anche politica diplomatica e militare adeguata solo così potrà 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 trasmettere efficacemente il suo messaggio ai popoli cristiani questo era il disegno che era politico ma allo stesso tempo era anche pastorale in qualche modo di Giulio II della Roma e le croniche dei suoi tempi lo descrivono proprio mentre è nei campi di battaglia mentre si confronta ai tavoli diplomatici con il re di Francia o con il senato dei veneziani addirittura mentre nel gennaio del 1511 ormai settantenne aveva 69 anni nel gennaio del 1511 in uno degli inverni più freddi del secolo lo vediamo dare l'assalto alla rocca della Mirandola vicino a Ferrara durante la guerra contro i veneziani e contro i francesi vestito di cotta d'acciaio con la spada in pugno nel grandinare delle frecce e delle pietre questo è stato il combattente papa di Roma Giulio II della Rovere quello che vedete qui negli affreschi e lo vedete ancora sempre negli affreschi di Raffaello nelle stanze qui vedete questo vecchio papa che prega fervorosamente molto bella questa scena prega e di fronte a lui c'è il miracolo di Bolsena miracolo di Bolsena miracolo un miracolo accaduto 300 anni prima quello del corporale che si conserva adesso nel duomo di Orvieto un prete mentre stava consacrando l'ostia dubita della presenza reale e allora l'ostia spezzata dall'ostia spezzata schizza sangue che inzuppa il corporale la tovaglia che accompagna il rito della celebrazione eucaristica questo miracolo accaduto a Bolsena tre secoli prima e la reliquia di questo miracolo il famoso corporale di Orvieto si conserva nel duomo di Orvieto viene rievocato qui nell'affresco di Raffaello con Giulio II che prega evocando la memoria storica di quel miracolo come a dire che al di là della guerra al di là degli scontri diplomatici e politici la Chiesa è misteriosamente santa perché perché fedele al al corpus Christi perché crede nella morte e risurrezione di nostro Signore quindi è una dichiarazione di fede molto forte resa da 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 Raffaello vedete con una con una efficacia visuale straordinaria guardatelo bene Papa Giulio II della Rovere che tanta parte ha avuto nella storia della Cappella Sistina ed eccola la Cappella Sistina così come si vede tutta insieme ai visitatori che la pensate ogni anno 5 milioni di persone entrano qui dentro gente di ogni cultura di ogni lingua di ogni provenienza di ogni religione o di nessuna religione arrivano qui a tratti certo dagli affreschi di Michelangelo di Botticelli di Perugino tutto quello che vi ho detto ma a tratti anche dal grandissimo significato simbolico quindi anche dalla straordinaria capacità emozionale che questo luogo ha la Cappella Magna della Chiesa di Roma le misure ve lo dette è lunga quasi 50 metri larga 14 alta 21 al culmine è totalmente ricoperta di affreschi per 2500 metri quadrati un quarto di ettaro di affreschi e sono affreschi che sono stati realizzati da Botticelli da Perugino da Ghirlandaio da Luca Signorelli da Bortolomeo della Gata e infine da Michelangelo Buonarroti vedete come è fatta la Cappella Sistina come una chiesa no? totalmente affrescata sulla destra ci sono le storie di Cristo l'ultimo e definitivo legislatore sulla parete sinistra ci sono le storie di Mosè il primo legislatore quello del primo patto fra Dio e il suo popolo in alto c'è la volta di Pindera Michelangelo la vedremo presto con le storie del Genesi e con la profezie e le profezie del Cristo Venturo e in fondo c'è il giudizio finale la Cappella Sistina è una specie di di manesharada teologica c'è tutto nella Cappella Sistina tutto il catechismo immaginate il catechismo messo in figura c'è l'Antico Testamento e c'è il Nuovo Testamento ci sono gli antenati di Cristo ci sono i profeti del mondo ebraico c'è il Genesi il Fiat Lux dalle origini del mondo alla sua fine l'Apocalista il giudizio universale là in fondo c'è il destino di tutti e di ognuno tutto quello che voi avete imparato al catechismo tanti anni fa qui lo trovate messo in figura come in nessun altro luogo del mondo è stato fatto con tanta completezza e con tanta efficacia e a un livello così alto di qualità artistica ecco la Cappella Sistina vista da fuori dai giardini vaticani vedete che ha proprio la forma di una fortezza di un castello in un certo senso ed ecco le storie vi ho detto che una parte questa è la parte di sinistra quella che racconta le vicende di di Mosè il primo legislatore ma di fronte a questo episodio che racconta la circoncisione di Mosè l'inizio quindi della sua storia pubblica di fronte c'è l'inizio della storia di Cristo il battesimo nel Giordano vedete asse portante della della teologia cattolica in tutti in tutti i secoli è stato sempre il rispecchiamento no fra l'antico e il nuovo testamento in un certo senso l'antico testamento è stato sempre inteso come anticipazione prefigurazione come si dice del nuovo questo lo vediamo per esempio qui la storia di Mosè comincia con la sua circoncisione la storia di Cristo incomincia con il suo battesimo queste sono le tentazioni di Mosè l'autore Botticelli niente meno guardate un capolavoro di Botticelli un affresco lungo sei metri altro tre in condizioni conservative praticamente perfette dove si vede Mosè che che tentato dal male si fa omicida vedete la scena in primo piano e di fronte ancora Botticelli il rispecchiamento teologico esegetico di cui vi ho parlato ci sono le tentazioni di Cristo vedete lassù in alto come dice il Vangelo sul tetto del Tempio il diavolo che presenta Cristo i regni e le ricchezze della terra e le potestà di questo mondo e gli dice tutto questo sarà tuo eccetera eccetera le tentazioni di Cristo quindi hanno la loro prefigurazione simbolica nelle tentazioni di Mosè guardate questo questo è un pittore fiorentino della squadra di Domenico Ghirlandaio che si chiamava Biagio d'Antonia che cosa è qui rappresentato lo vedete bene no? il passaggio del Mar Rosso conoscete la storia tutti il passaggio del Mar Rosso Mosè che porta via il suo popolo dalla servitù d'Egitto gli egiziani mandati da Faraone cercano di fermare l'esodo dei giudei ma mentre gli ebrei hanno già passato il Mar Rosso e qui il pittore rappresenta il Mar Rosso come veramente rosso con le onde rosso sangue proprio la cavalleria del Faraone d'Egitto corre dietro a Mosè e ai suoi per sterminarli per catturarli e allora le acque del Mar Rosso si richiudono su di loro è esattamente quello che Biagio d'Antonio rappresenta in questo affresco si vede Mosè con il suo popolo in salvo sulla sponda del Sinai cioè sull'altra parte sull'altra sponda del Mar Rosso dall'altra parte c'è la città di Faraone sotto nuvole tempestose ma in primo piano c'è l'esercito degli egiziani che viene travolto dalle acque quindi passaggio del Mar Rosso le acque che si che travolgono e affogano i nemici del popolo eletto è una storia di salvezza perché Mosè salva il suo popolo e di acqua perché l'acqua del Mar Rosso ha ha travolto e affogato i nemici del popolo eletto ecco di fronte questo per sottolineare il rispecchiamento simbolico e la prefigurazione teologica che c'è fra l'Antico e il Nuovo Testamento ecco qui di fronte il pittore fiorentino Domenico Ghirlandaio racconta in questo affresco la chiamata degli apostoli tutti sapete di cosa si tratta tutti ricordate l'episodio Cristo chiama due pescatori sul lago di Tiberiade uno è Pietro e l'altro è Andrea e dice loro d'ora in poi vi farò pescatori di uomini questo rappresenta Domenico Ghirlandaio in questo affresco si vede Cristo in piedi con i suoi discepoli e i due i due santi i due chiamati in ginocchio di fronte a loro sul lago di Tiberiade anche questa è una storia di salvezza perché la parola di Cristo salva e i due pescatori diventati apostoli diventeranno strumento di salvezza per le moltitudini ed è una storia di acqua l'acqua del lago di Tiberiade così come il passaggio del Mar Rosso la salvezza dall'esercito di Faraone è una storia di salvezza anche quella e di acqua ancora guardate l'episodio e qui l'autore è Cosimo Rosselli un fiorentino della squadra di Domenico Ghirlandaio Mosè che prende le leggi sul monte Sinai come sapete bene Dio nel globo di fuoco che gli consegna le tavole della legge lui le porta al suo popolo e si accorge che il suo popolo adora il vitello d'oro è diventato idolatra e allora che cosa fa Mosè spezza le leggi e maledice il popolo che ha rifiutato la legge di Dio per prosternarsi di fronte agli idoli ma di fronte c'è l'altra legge non quella di Mosè che Cristo ha superato ma la legge e qui c'è il discorso della montagna sempre lo stesso autore Cosimo Rossetti Cristo che parla il discorso della montagna beati puri di cuore beati mansueti eccetera eccetera la legge dell'amore che sostituisce la legge del Sinai la fa propria la ingloba e ancora vedete Mosè che si congeda dal suo popolo dando le ultime istruzioni ai suoi seguaci è questo ecco quando quando i i cardinali elettori sono entrati nella cappella Sistina per eleggere l'ultimo papo Francesco entrando dalla cosiddetta Sala Regia ecco il loro sguardo si è posato inevitabilmente perché la posizione è strategica in un certo senso chi entra guarda verso destra e inevitabilmente guarda questo celebre dipinto questo affresco di Pietro Perugino che raffigura come vedete bene la consegna delle chiavi qui l'autore è Pietro Perugino è la istituzione del primato del Papa di Roma Cristo che consegna le chiavi a Pietro che gli sta in ginocchio di fronte Pietro come primo Papa la pietra angolare sulla quale si regge la chiesa di Roma il primato dei papi è questa i cardinali elettori che entravano in Sistina la prima cosa che vedevano era questa il Tibidabo Claves ti darò le chiavi e quello che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo eccetera eccetera ed è ma ecco la volta gli affreschi che avete visto e io non sto a dettagliarveli tutti ci vorrebbero tre ore ben più del tempo che mi è stato dato e non voglio abusare della vostra attenzione ma la volta gli affreschi che avete visto vi ho detto si datano fra il 1481 e il 1483 passano vent'anni tempo lungo nella storia e anche nella storia dell'arte più di vent'anni e succede che nel 1508 data fondamentale per la storia dell'arte per la storia delle arti nel 1508 il nipote di Papa Sisto IV quel giovane cardinale che vi ho fatto vedere all'inizio e che dal 1503 è Papa con il nome di Giulio II della Rovere chiama da sé a Roma davanti a sé a Roma due artisti uno è un ragazzo di appena 25 anni si chiama Raffaello Sanzio da Urbino e a questo ragazzo di 25 anni ordina di dipingere le pareti del suo appartamento privato quegli ambienti dei palazzi apostolici oggi parte dei musei vaticani che da allora in poi tutto il mondo conoscerà come le stanze le stanze di Raffaello e a un giovane uomo di 33 anni Michelangelo Buonarroti da Firenze artista che il Papa conosceva bene ha avuto anche motivi di scontro con lui per la famosa tomba che poi non fu mai costruita Michelangelo era già celebre nonostante avesse un'età ancora relativamente giovane 33 anni nel 1508 basti dire che aveva alzato in piazza della signoria Firenze la statua del David vi rendete conto cosa è stato per gli uomini di quell'epoca nel 1504 quando viene alzata in piazza della signoria la statua del Davide un evento come quello per la prima volta dal tempo dei greci e dei romani per la prima volta da 15 secoli praticamente una figura virile nuda un uomo totalmente nudo alto quattro volte il vero veniva collocato nel cuore di una piazza italiana Giorgio Vasari dice dopo il Davide di Michelangelo non c'è più né Fidia né Policleto i moderni hanno vinto gli antichi e dice una cosa anche molto bella molto profonda e molto vera dice questa è la prima statua concettuale nella storia delle arti ed è vero è vero perché il Davide che tutti conoscete tutti l'avete visto se non altro nella sua coppia che c'è in piazza della signoria perché l'originale sta all'interno del museo dell'accademia Firenze il Davide non sta facendo qualcosa se ne sta perfettamente immobile non sta lanciando la fionda non sta scagliando la pietra che abbatterà il gigante Galicolia non sta decapitandolo come racconta la Bibbia Davide è immobile combatterà se sarà necessario ma non è questo che Michelangelo vuole rappresentare vuole rappresentare la forza della ragione che sta sotto la mano di Dio Davide è la fionda del Signore e vincerà non può non vincere perché rappresenta la libertà dei fiorentini rappresenta la giustizia e il buon diritto quindi una statua che non rappresenta un'azione ma rappresenta un concetto la libertà di un popolo e il suo essere protetto questo popolo dalla mano di Dio quindi Michelangelo ben conosciuto dal Papa e già celebre a Roma in Italia e non solo e non solo ha l'incarico di dipingere la volta mille e ottanta metri da riempire di più di trecento figure in un lavoro sterminato al quale Michelangelo lavorò ininterrottamente per quattro anni pensate quattro anni dal 1508 al 1512 praticamente da solo tutti conoscete il temperamento di Michelangelo Bonerrotti dal punto di vista umano doveva essere un uomo sgradevolissimo intrattabile misantropo collerico incontentabile nessuno poteva lavorare con lui chi provava a avvicinarsi a lui veniva cacciato via e quindi praticamente da solo senza allievi con pochissimi aiuti in quattro anni ha affrontato la volta della Sistina in una specie di duello di corpo a corpo con una fatica terribile a 20 metri di altezza provate a immaginare questo immenso ponteggio lungo 40 metri e lui praticamente da solo nel caldo terribile dell'estate romana nel gelo dell'inverno lui stesso perché sapeva essere anche uomo di spirito Michelangelo ha voluto fare dell'ironia sulla sua terribile fatica ha fatto una specie di autocaricatura di se stesso negli archivi della Casa Bonarroti a Firenze museo e centro di studi Michelangelesco che si chiama così Casa Bonarroti era la casa della famiglia di Michelangelo c'è un uno scritto autografo del Bonarroti con un sonetto con molte correzioni molte rettifiche un disegnino un disegno fatto da Michelangelo dove si vede una specie di omino un pupazzo tutto storto tutto disarticolato e lui stesso è Michelangelo che parla di se stesso al lavoro nella Cappella Sistina e dice il sonetto io mi son fatto un gozzo in questo stento come fa l'acqua ai gatti in Lombardia o di qual'altro paese che si sia la barba al cielo e la memoria sento in sullo scrigno lavoro col mento verso il cielo e la memoria cioè la nuca come si diceva allora nel linguaggio medico anatomico nell'epoca in su lo scrigno cioè sulle reni e il petto fo d'arpia il petto lo piego come fanno i polli e il mento è entrato mi è nella pancia e mi piego fino a far entrare il mento nella pancia e il culo fo per contrapeso groppa e mi storco spostando il sedere per fare da contrapeso e poi il sonetto finisce con due versi bellissimi che ci fanno capire la gloriosa fatica dell'arte quando Michelangelo dice e il pennello gocciando tuttavia mi fa sul viso un ricco pavimento lui dipingeva con il pennello nella mano destra e i colori gli sbrodolavano sulla faccia impastandosi con il sudore con la polvere i colori della sistina l'azzurro di lapislazio il verde di rame il rosso cinabro le terre d'ombra le terre di siena bellissimi trovo due versi meravigliosi che fanno capire veramente l'eroica grandezza dell'arte di Michelangelo e il pennello gocciando tuttavia mi fa sul viso un ricco pavimento ma cosa c'è nella volta della cappella sistina la quale Michelangelo ha lavorato quattro anni ha finito il 31 ottobre del 1512 e il papa Giulio II della rovere quel papa che avete visto prima quel papa che quattro anni prima gli aveva ordinato il lavoro ha voluto celebrare quell'evento 31 ottobre vigilia di ogni santi ha voluto celebrare lì dentro i vesperi solenni della vigilia di ogni santi